Buona serata, apriamo un nuovo appuntamento con l'informazione su Telestense, molta la cronaca questa sera e parleremo di un incendio avvenuto questa notte a Mirabello, ha preso fuoco l'azienda di Vittorio Lodi, ma andremo anche a Comacchio dove un pullman si è ribaltato, sono 21 i feriti, 21 persone di provenienza dal Veneto che erano appunto in gira, in gita praticamente qui a Comacchio e vi parleremo anche della riapertura del caso Bergamini, una notizia di alcune ore fa e che sta facendo molto discutere, ma cominciamo parlando però di calcio, di spalle in particolare perché è iniziato il conto alla rovescia per la sfida tra spalle e la spezia che potrebbe già essere decisiva, più plausibile che i tifosi devono attendere il prossimo weekend per avere la certezza matematica, ma sta di fatto che la cavalcata di Biancoazzurri sta entusiasmando una città intera, vediamo dunque il servizio. Orgogliosi di essere ferraresi, un sentimento che poche cose come il calcio, in questo caso della città estense, sta regalando ai propri tifosi e ai simpatizzanti, l'eco dei risultati ormai è sulla bocca di tutti, anche dell'allenatore più vincente del momento in Italia e in Europa, Massimiliano Allegri, attuale tecnico della Juventus che nella società ferrarese allenò nel 2004-2005. Auguro alla spalle di tornare in Serie A il più in fretta possibile, magari già sabato prossimo. Allegri, come riferisce l'Ansa, si dice molto contento e la spalle è stato l'inizio della sua carriera dopo l'anno all'Aglianese. Ferrara continua il tecnico bianconero, è una città che ha storia. In quell'anno alla spalle ho percepito la storia e la tradizione. Orgoglio ferrarese, insomma, che vale doppio grazie alla cavalcata degli ultimi anni, immediatamente successivi al periodo buio in cui si registrarono due fallimenti societari. In città si aspetta di far festa, esattamente se non di più di un anno fa, quando il 23 aprile 2016, giorno di San Giorgio, patrono cittadino, la SPAL conquistò la certezza della promozione in Serie B, pareggiando in uno stadio mazza gremito con l'Arezzo 1-1. Una festa che dura tutta notte, intanto in piazza indiscrezioni suggerirebbero che in queste ore ci si stia già preparando a colorare il centro storico di bianco-azzurro. Ma bisognerà aspettare almeno la prossima giornata, che vedrà la SPAL impegnata sabato alla Spezia alle 15. Se i bianco-azzurri vincessero, parallelamente servirebbe una sconfitta interna del Verona nel derby con il Vicenza o il mancato successo del Frosinone a Salerno in una delle due gare in programma lunedì. In qualsiasi di queste ipotesi, la SPAL avrebbe garantito almeno il secondo posto. Un'altra possibilità è legata alle sconfitte di Cittadella e Perugia, che si ritrovano a 57 punti. In questo caso la SPAL, se vincesse in terra Ligure, avrebbe 19 punti in più della o delle quarte, per cui avrebbe la certezza di chiudere la stagione sopra i 10 punti rispetto a queste squadre, per cui non si disputerebbero i play-off e salirebbero direttamente nel massimo campionato le prime tre della classifica. Obiettivamente, più plausibile è l'ipotesi che i tifosi della SPAL possano vivere la storica giornata domenica 7 maggio, al termine della partita casalinga con la Provercelli. Vi ricordo ovviamente che la SPAL seguiremo in diretta come ogni settimana, in questo caso sabato pomeriggio alle 15 nel corso di match. Parliamo adesso però di Carife, perché la Procura chiude l'inchiesta sull'aumento di capitale della ex Carife e ora ci sono 12 indagati che salvo sorprese saranno rinviati a giudizio. Tra i nomi che secondo la Procura avrebbero contribuito a creare in modo fittizio un aumento di capitale della banca per scongiurare il fallimento, compaiono quelli dell'ex presidente Sergio Lenzi e del suo ex direttore Daniele Forin. Sentiamo. 12 indagati su 54 iniziali, più di due anni di indagini per 15 faldoni di atti sono i numeri dell'inchiesta che la Procura di Ferrara con le indagini eseguite dalla Guardia di Finanza ha chiuso proprio in questi giorni. Un'inchiesta giudiziaria che ha cercato di fare luce sull'aumento di capitale dell'ex Carife è partito alla fine del 2010 e concluso nel 2011 per arrivare a 150 milioni di euro. Così l'allora presidente della banca di Ferrara Sergio Lenzi e il direttore generale Daniele Forin con i dirigenti Davide Filippini e Michele Sette e l'allora legale rappresentante consigliere di amministrazione delle società Carife 6 Paolo Govoni sono alcuni dei nomi dei 12 indagati. Si aggiungono Teodori Conanni, già ex legale rappresentante della controllata banca di credito e risparmio di Romagna, e Michele Masini, socio della società di revisione contabile di Carife, Deloitte & Tusch. A questi nomi ferraresi si aggiungono alcuni dei numeri dei componenti dei CDA di due banche che, secondo l'ipotesi investigativa, avrebbero contribuito all'operazione che gli inquirenti chiamano di fittizia creazione di capitale. Sono i legali rappresentanti rispettivamente della banca Valsabine di Cari Cesena, con gli ex direttori generali dei due istituti, oltre a un altro dirigente della banca di Cesena. L'ipotesi accusatoria hanno spiegato questa mattina in un incontro con la stampa il procuratore capo Bruno Kerchi, il colonnello a capo del comando provinciale delle Fiamme Gialle Sergio Lancerin, si baserebbe sul fatto che i vertici di Carife per l'aumento di capitale necessario nel 2011 per impedire che la banca fallisse, fatto questo poi avvenuto, avrebbero commesso operazioni poco trasparenti a tal punto che, con la collaborazione di altre due banche, l'Istituto Valsabine e Cari Cesena, avrebbero creato un capitale fittizio e dunque doppato. Un capitale non reale che per conseguenza si riverberò anche sul valore delle azioni, poi fatte sottoscrivere ai soci di Carife successivamente caduti nel crack. Indagini che inizialmente per motivi d'ufficio portarono a descrivere nel fascicolo dell'inchiesta il nome di 54 persone. Per la procura tuttavia solo alcuni, sia del CDA della vecchia Carife che delle due banche amiche, era una perfetta conoscenza di quanto si stava effettuando per procedere a tutti i costi, ritengono gli inquirenti, all'aumento del capitale che avrebbe scongiurato, come dicevamo, la fine dell'Istituto di Credito. Le indagini hanno poi consentito di ridurre le responsabilità, quelle che noi riteniamo essere le responsabilità, non a tutti i partecipanti ai consigli di amministrazione. Questo sia per le modalità con cui gli atti sono stati portati ai consigli di amministrazione, in particolare al consiglio di amministrazione della Carife. E sia anche, per quanto riguarda le altre banche, in relazione alle diverse modalità con cui gli aumenti di capitale sono state fatte. Al reato di fittizia e creazione di capitale si aggiungono anche quelli di falso, improspetto, aggiottaggio ed ostacolo all'autorità di vigilanza. Collegato con il reato di creazione e fittizia di capitale, inoltre c'è anche quello di bancarotta. Ora i faldoni sono a disposizione dai legali delle difese e se entro 20 giorni non ci saranno delle contestazioni, il Tribunale di Ferrara procederà alla fissazione dell'udienza preliminare, un'udienza che si dovrà tenere o in una sala di Ferrara Fiero, nella sala congressi di Cona, visto le numerose parti offese che si presenteranno. E fra queste ci saranno anche gli azionisti caduti nel crack, sia quelli che intendono agire privatamente, sia quelli che si sono rivolti alle varie associazioni che tutelano il consumatore. E passiamo a una notizia anticipata in apertura perché sono state riaperte le indagini sulla morte di Dennis Bergamini, ricordiamo il calciatore argentano morto nel 1989 nei pressi di Cosenza in circostanze mai chiarite. Il corpo del giovane verrà riesumato il 2 maggio e ad annunciarlo in un'intervista a Rai Sport è stato il procuratore capo di Castro Villari. Sentiamo. Procederemo con la riesumazione del cadavere perché vogliamo approfondire con le tecniche di cui oggi si dispone tutti i possibili aspetti di quello che non è un suicidio, non è ipotizzabile come un suicidio. Con queste parole pronunciate nell'ambito di un'intervista rilasciata a Rai Sport, il procuratore capo di Castro Villari, Eugenio Facciolla, ha annunciato che a distanza di 28 anni si riapre ufficialmente l'inchiesta sulla morte di Dennis Bergamini, il calciatore argentano in forza al Cosenza, che morì in circostanze fino ad oggi mai veramente chiarite il 18 settembre del 1989 sull'asfalto della statale ionica 106 al chilometro 401 vicino a Roseto Capo Spulico, provincia di Cosenza. Dennis Bergamini aveva 27 anni il giorno in cui è morto. All'epoca la sua morte fu archiviata come un caso di suicidio. Il calciatore, si disse, si era buttato tra le ruote di un camion che stava sopraggiungendo. In realtà diverse perizie effettuate negli anni successivi ponevano in dubbio questa spiegazione dei fatti perché le condizioni del corpo, ma anche degli oggetti che Dennis indossava al momento della morte, non apparivano compatibili con l'investimento da parte di un camion. Oggi il procuratore di Castro Villari dichiara a chiare lettere che non poteva trattarsi di suicidio e che la scienza ci ha consegnato oggi degli strumenti di indagine molto superiori a quelli di 27-28 anni fa. La riesumazione del corpo di Dennis Bergamini avverrà il prossimo 2 maggio. Due informazioni di garanzia sono state notificate all'ex fidanzata di Bergamini, Isabella Internò, e a Raffaele Pisano, l'uomo che era alla guida del camion che, secondo la versione ufficiale, investì il calciatore. Alla domanda di Rai Sports sul perché Bergamini sarebbe stato ucciso, facciola a risposto, emerge un mix di questioni sentimentali e di questioni legate ad altre tematiche. Intanto è sempre caccia al killer. È bene dal 2015 che Norbert Fair è ricercato in tutta l'Italia. Il mandato di cattura fu emesso dopo le indagini della procura di Ferrara che indagò con la Polizia di Stato sulle rapine violente consumate nel basso ferrarese nell'estate di quell'anno. Proseguono senza sosta le ricerche di Norbert Fair. Il killer di Budrio e Porto Maggiore le forze speciali infatti stanno completando di scandagliare la zona russa di oltre 40 km quadrati che si trova fra Argenta, Molinella e Mar Morta. Le ricerche tuttavia si allargano anche a zone limitrofe, a quella dove si sono perse le tracce del killer la sera dell'8 aprile. A Mar Morta, appunto, poco tempo dopo che Norbert Fair uccisa la guardia ambientale Valerio Verri e ferì gravemente Marco Ravaglia. Ieri è stata settacciata la zona di Consandolo, una frazione di argente e poi quella che si avvicina di più a Porto Maggiore. Gli investigatori tuttavia lo cercano in tutta Italia e non solo dalle ultime due settimane. Su di lui infatti spicca un mandato di cattura già dal 2015, cioè dopo che la procura di Ferrara indagò sulle rapine che si consumarono fra la fine di luglio e primi giorni di agosto dello stesso anno nel basso ferrarese. A Consandolo ieri intanto sono state trovate nuove tracce che sarebbero state individuate dai cani molecolari che ora sono al vaglio degli uomini del RIS. Il reparto speciale inoltre dovrà chiarire se le due scritte trovate recentemente, una lasciata in un vecchio specchio di un casolare e una sul muro di un altro immobile fatiscente, sono frasi realizzate proprio da Norbert Fair. E adesso andiamo a Mirabello dove questa notte c'è stato un grave incendio nell'azienda agricola Lodi. I particolari nel servizio. L'azienda agricola di Vittorio Lodi a Mirabello è stata nuovamente colpita da un violento incendio. L'allarme è scattato nella notte tra il 26 ed il 27 aprile attorno alle 3, quando gli operai che erano in turno in quel momento hanno chiamato i vigili del fuoco segnalando subito la gravità del rogo. L'incendio ha colpito due capannoni contenenti balle di fieno da essiccare, che peraltro erano stati ricostruiti dopo il terremoto del 2012. L'anno successivo, nel 2013, inoltre, l'azienda Lodi era stata colpita da un altro grave incendio che necessitò di giorni di intervento per poterlo domare. Sul posto stanno lavorando squadre del comando di Ferrara e volontari di Copparo. Ancora da stimare l'entità del danno che probabilmente sarà di milioni di euro. Intanto due scosse di terremoto di magnitudo di poco superiore a 3 sono state avvertite ieri sera tra Mirabello e Sant'Agostino. I dettagli nel servizio. Due scosse di terremoto sono state avvertite nella serata di mercoledì 26 aprile nel comune di Terre del Reno. La prima di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 18.46 con epicentro a Mirabello. Circa due ore e mezza dopo, alle 21.15, una seconda scossa di magnitudo 3.2 si è verificata a Sant'Agostino. Quest'ultima è stata percepita in un'area molto più vasta, dalla periferia di Ferrara fino a Cento, Bondeno e finale Emilia. Solo spavento ma nessun danno a persone e cose in una comunità ancora colpita dal violento sisma del 2012 di cui ricorrono a breve i cinque anni. Ricordiamo oggi un'altra breve scossa di magnitudo 2 che si è registrata alle 13.24 a Poggio Renatico. Adesso invece andiamo a Comacchio dove c'è stato un incidente in tarda mattinata in via Foce. Un pullman di turisti proveniente da Mogliano Veneto e Spinea e diretto al bettonino di Foce si è ribaltato attorno alle 12.50 rovesciandosi nella scarpata adiacente. Feriti i 21 occupanti facenti parte di un gruppo dell'Università della Terza Età. Sei di essi sono stati trasportati all'ospedale di Cona e cinque dei quali in codice di media gravità. Si tratta di donne di età tra i 65 e i 71 anni, una delle quali è stata trasportata con un'eleambulanza arrivata da Ravenna. Tutti gli altri invece, risultati meno gravi, sono stati trasferiti al più vicino ospedale del Delta. Dai primi riscontri sembrerebbe che il conducente, un 34enne di Treviso, abbia perso il controllo del mezzo a seguito di un guasto tecnico. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono intervenuti anche la polizia municipale, la polizia locale, due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Comacchio, tre pattuglie di carabinieri, due del Norm e una della stazione di Lido e Stensi. E rimaniamo comunque sempre a Comacchio, ma parlando di turismo sostenibile, perché questa mattina si è tenuto un convegno per parlare delle opportunità offerte da un territorio come il Delta del Po. Sentiamo. Una riserva naturale unica al mondo, riconosciuta patrimonio UNESCO nel 2015, un territorio ricco di opportunità per raccontare un nuovo modo di fare turismo, un turismo sostenibile come quello offerto dalle ricchezze del Delta del Po. Di questo si è discusso a Comacchio in un convegno dedicato proprio alle opportunità offerte da queste riserve naturali. È fondamentale che gli operatori turistici, quando individuano il loro prodotto turistico o individuano delle strategie di comunicazione, prendano coscienza di essere in un luogo dal capitale naturale altissimo e che ha una consapevolezza di vivere anche una fase sociale che può essere uno degli attrattori per l'aspetto turistico, quindi consapevolezza di essere in un luogo speciale per promuovere un prodotto turistico speciale. Molto si può fare per incentivare il turismo anche nel parco naturale del Delta del Po. I gruppi di azione locale sono le figure di coordinamento che attraverso molte iniziative cercano di comunicare un territorio ricco di suggestioni. Si discute di una scommessa molto importante perché da un lato queste aree naturalistiche importantissime riconosciute dall'UNESCO hanno sicuramente delle grandi potenzialità sulle quali ovviamente però bisogna discutere, bisogna soprattutto metterle in condizione di rendere alla popolazione un servizio anche economico importante perché proprio il tema del Mab ci dice che in queste aree la popolazione, i residenti, i cittadini sono estremamente rilevanti. Abbiamo impostato il nostro piano di azione locale sul turismo sostenibile e la sostenibilità è uno degli elementi principali appunto delle aree della riserva della biosfera quindi riconosciute dall'UNESCO. L'incontro di Comacchio è stato anche l'occasione per presentare ciò che accadrà a settembre con l'arrivo di centinaia di giovani da ogni parte del mondo che si incontreranno proprio per parlare di sviluppo sostenibile. I giovani 18-35 di tutte le riserve di biosfera quindi di 670 riserve, 129 paesi si ritrovano a discutere nel Delta e quindi questa valorizzazione di questo luogo particolare di tre tematiche di lavoro, di come si fa associazionismo, di come si può sviluppare una formazione della gente e dei giovani dell'area del Delta ma in realtà delle aree Mab per proporre un'idea nuova di vita. Lasciamo così l'area del Delta, ci occupiamo adesso di un caso importante, quello dell'Alitalia perché dopo la bocciatura dell'accordo tra sindacati e proprietà ci si interroga sui destini della compagnia aerea che paiono quanto mai incerti. Ne abbiamo parlato dal proposito con il professor Alessandro Somma. Un paese può stare senza una compagnia aerea di riferimento? Diciamo che la compagnia aerea di riferimento è da tempo privatizzata per cui insomma non abbiamo più la compagnia di bandiera come era un tempo perché come forse si ricorderà nel 2009 Alitalia viene rilevata da quella famosa accordata di capitani coraggiosi messi insieme più o meno da Berlusconi che hanno privatizzato la compagnia che probabilmente hanno anche ottenuto qualche regalia in cambio per questo loro coraggio. Tra loro c'era ad esempio Riva che aspettava l'approvazione dei piani ambientali per Taranto. Dopodiché anche i privati che di solito sono considerati la salvezza per tutti i mali fanno male sino ad arrivare a questa ulteriore fase nel processo di privatizzazione con ETA che entra con il 49% ma che non risolve i problemi. E cosa fa l'Italia? All'Italia negli ultimi dieci anni licenzia 12.000 persone, perde, perde soldi, perde soldi del contribuente e si ritrova nuovamente qui a chiedere sacrifici a chi? Ai lavoratori. In mancanza di una vera e propria strategia industriale sembra? Il problema a me pare essere questo, che c'è un problema di privatizzazione che non funziona nel trasporto. Pensiamo alle ferrovie, pensiamo al trasporto pubblico locale. Da quando è privatizzato cosa succede? Chi è che sopravvive su questo mercato? Chi paga poco i lavoratori e chi non tutela i diritti dei lavoratori? Ryanair è il primo vettore per persone trasportate in Italia, ma sappiamo che Ryanair paga le tasse in Irlanda, non rispetta quindi lo statuto dei lavoratori, quel poco che è rimasto e così via. Cosa fare adesso? Chi lo sa. L'ipotesi di un'entrata in campo, nazionalizzazione addirittura è stata ventilata per un attimo, secondo lei sarebbe ragionevole o possibile? Il problema non è tanto avere un proprietario pubblico o un proprietario privato, il problema è rompere la logica delle privatizzazioni e della situazione per la quale si devono abbattere i costi, lo si fa sempre sulle spalle dei lavoratori. Bisogna intervenire in qualche modo, non ho idea di quali possono essere formule, ma non è possibile che paghino sempre i lavoratori. La pagina della cultura a questo punto nel nostro tv giornale perché prende il via domani Nero Laguna, ovvero il primo festival del libro Noir di Comacchio che si svolgerà su tre giorni dal 28 al 30 aprile. Direttore artistico e scrittore Marcello Simoni che abbiamo intervistato. Innanzitutto preciso, questo è un evento che è curato dal comune, abbiamo il patrocino della regione, abbiamo l'appoggio della biblioteca del comune di Comacchio, la volontà è quella di portare la biblioteca fuori per le strade, infatti il palco sarà nella piazzetta Treponti. Il 28 giornata d'apertura ci sarò io che parlerò appunto del legame tra il Noir e Comacchio. La mattina abbiamo Carlo Martigli che è uno degli ospiti che parlerà prima con le scuole e poi dopo il pomeriggio insieme a Guido Conti parlerà con il pubblico. Martigli e Conti sono due grandi scrittori, scrittori di calibro che si occupano di storia ma anche di giaglia dell'occorrenza. Il secondo giorno, il 29 di aprile, sarà veramente una giornata molto piena perché oltre ad avere Barbara Baraldi che è una scrittrice che si rivolge sia ai giovani che agli adulti, una scrittrice gotica che tra l'altro parlerà del suo nuovo romanzo, avremo Cristina Marra che non è scrittrice ma si occupa di Noir, è una persona che ha fatto del Noir il suo mestiere perché organizza eventi e cura antologie, lavora con editori sempre con romanzi o racconti di tema Noir. Avremo Marilu Oliva da Bologna e poi avremo due teste di serie perché avremo Maurizio De Giovanni e Carlo Lucarelli in serata a confronto che parleranno dei loro nuovi romanzi, Maurizio è uno che ormai scrive tre romanzi all'anno, Carlo è reduce da un grande successo editoriale con l'ultimo romanzo uscito per Inaudi e perciò ci sarà questa giornata molto piena. Sono dieci scrittori in tutto, quest'anno abbiamo voluto limitarci a dieci. Il terzo giorno abbiamo un grande successo, Matteo Strucul che di recente è uscito in libreria con la sua trilogia dei Medici, avremo Franco Forte che è responsabile di Mondador Edicola e a sua volta anche scrittore di romanzi storici e gialli e poi chiudiamo con Roberta Bruzzone che ci parlerà non solo di attualità e di cronaca ma anche di libri che scrive perché di recente Roberta è uscita con un romanzo sul lato oscuro dei social media, perciò da Facebook, da Twitter e tutto quello che si deve e non si deve fare quando si lavora online. E chiudiamo il nostro TV giornale parlando di prevenzione e stili di vita. Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall'entità dei fattori di rischio e alcuni si possono modificare mentre altri no. È possibile ridurre il rischio cardiovascolare abbassando il livello dei fattori che si possono modificare. Vediamo dunque come e quali nel servizio. Le malattie cardiovascolari sono causate da più fattori di rischio. Età, sesso, pressione arteriosa, abitudine al fumo di sigaretta, diabete, collesterolemia contribuiscono contemporaneamente al loro sviluppo. Ma se i fattori di rischio sono caratteristiche che aumentano la probabilità di insorgenza della malattia è pure dimostrato che è possibile ridurli attraverso la prevenzione. In poche parole, è possibile evitare di ammalarsi di infarto e di ictus. I fattori di rischio cardiovascolare si dividono in due categorie, modificabili e non modificabili. Età, sesso e familiarità non si possono modificare. Il rischio di patologie aumenta progressivamente con l'avanzare dell'età. Gli uomini sono più a rischio delle donne e non bisogna sottovalutare parenti e familiari colpiti da malattie cardiovascolari in giovane età. Meno di 55 anni negli uomini e meno di 65 anni nelle donne. Attraverso il cambiamento dello stile di vita o con i farmaci si possono modificare invece altri fattori di rischio, a partire dal fumo. La nicotina accelera il battito cardiaco. Il monossido di carbonio favorisce lo sviluppo della terosclerosi accelerata anche da un'elevata pressione arteriosa che costringe il cuore ad un super lavoro. Attenzione poi al colesterolo totale. Una sostanza normalmente presente nell'organismo può trovarsi in quantità eccessive nel sangue. Maggiore la sua quantità, più alto il rischio che si depositi nelle pareti delle arterie. Anche il diabete, se non correttamente controllato, favorisce la terosclerosi, incrementando il rischio cardiovascolare. Attenzione poi alla colesterolemia. Le HDL sono lipoproteine che trasportano il colesterolo in eccesso dai tessuti al fegato dove viene eliminato. Minore la loro quantità, maggiore il rischio cardiovascolare. Il rischio che ogni persona ha di sviluppare la malattia cardiovascolare dipende dall'entità dei fattori di rischio. Il rischio è continuo ed aumenta con l'avanzare dell'età e non esiste un livello a cui il rischio è nullo. Tuttavia è possibile ridurre il rischio cardiovascolare abbassando il livello dei fattori modificabili attraverso uno stile di vita sano. E lo si può fare smettendo di fumare, seguendo una sana alimentazione, controllando il peso e svolgendo una regolare attività fisica. Questo è dunque l'argomento della puntata odierna di Salute 3.0 con cui chiudiamo il nostro TV giornale. Grazie dunque per averci seguito. Appuntamento alla prossima edizione.